Eccoci all'entrata in campo, settima giornata di ritorno del campionato provinciale categoria giovanissimi, Girone Chieti tra Virtus Castel Frentano con la classica maglia giallorossa e l'ortona calcio con la neroazzurra. Il direttore di gara della sezione AIA di Lanciano, ecco i nostri ragazzi, c'è Mammarella che oggi è capitano, l'ortona calcio, ok bravi ragazzi in bucca al lupo tutto, ok andate a salutare l'altra panchina. Signore e signori, buon divertimento. Guardalini e c'è Simone Pellegrina che oggi non è in formazione in quanto non sta bene, c'è il mister Giovanni, c'è anche Simone Pellegrina che sta seduto. In bucca al lupo! Crepi! Crepi! Grazie! Grazie!